Per aggiungere un token temporaneo in IpaSan Manager, fare clic sul pulsante Utenti e profili di accesso. Poi, cliccate su Profili di accesso alla porta, e continuate a usare il menu a tendina per trovare l'utente che volete modificare. Una volta selezionato l'utente, fare clic su Aggiungi una credenziale. Selezionare il tipo di credenziale. Immettere il codice che appare sulla credenziale e scegliere il colore corretto. Deselezionare la casella permanente, e scegliere un intervallo di date per la credenziale temporanea. Infine, fare clic su Salva prima di aggiungere altri token.